Andiamo avanti ragazzi perché non sono soddisfatto del mio operato Finora voglio imparare di più Questo è il mio da letto E non mi ha scritto un cazzo Quando la femmina sbatte l'anca se non è puttana Poco ci manca Questo l'avevo capito ma non ho sentito bene la prima parte Scusate in che lingua aliena era Perché diventa il cumente? Vabbè se la femmina comunque muove l'anca Se non è una prostituta poco ci manca Mi dissocio assolutamente Proverbio altamente sessista